ehi ragazzi benvenuti in un nuovo video allora questo è un radio commerciale economico ora lo apriremo lo smonterò e andiamo a scoprire la componentistica voglio lanciare un nuovo format di video dove acquisto prodotti tecnologici commerciali per appunto smontarli e analizzarli così da vedere nella realtà oltre al loro funzionamento se la qualità dei prodotti diciamo della componentistica interna risulta realmente di buona qualità gli assemblaggi tutte diciamo le varie caratteristiche tecniche del prodotto commerciale e allora questo è un autoradio 2 din con in dotazione una due tre di queste che sono i supporti per l'installazione sul cruscotto della vettura poi c'è questa che è la cornice esterna da mettere sul frontale poi c'è anche tutta la cavetteria con retrocamera che questa retrocamera con 4 led 4 led 1 2 3 4 cavo rca giallo più cavo di alimentazione che questo qui poi ci sono i cavi che sono questi qui questo è cavo di uscita degli atto parlanti più un altro cavo che quello di alimentazione più telecomando il libriccino delle istruzioni una due tre quattro viti in dotazione andiamo a prendere l'autoradio e vediamo cosa abbiamo allora il prezzo di questo si aggira intorno alla quarantina di euro e il l'autoradio con schermo due team più economico che ho trovato su amazon eccolo qui questo è un autoradio ok allora questo è l'autoradio e abbiamo il potenziometro del volume che questo qui abbiamo il tastino per andare avanti indietro nelle nei cambi delle dei brani più tasto centrale che è quello che ci fa spegnere ed accendere l'autoradio stesso e non è android ragazzi qui abbiamo usb frontale più aux più res che reset più lettore di micro sd sul fronte che questo qui più qui abbiamo led di infrarosso per il telecomando un altro sensore forse per la luminosità parte retro perfetto e abbiamo 1234 gialli che sono quelli video più uno bianco e uno rosso audio out se vuoi andare ad connettere un amplificatore audio più di out e via auto se vuoi mettere dei monitor supplementari per esempio quelli a tendina quelli sul poggiatesta dei sedili eccetera eccetera più abbiamo uno e due sono due ingressi per videocamere o nella fattispecie la retrocamera questa qui antenna va qui gps va qui però questo modello non è compatibile col gps c'è solo la porta però non c'è la connessione interna che ora quando lo smonterò andremo a vedere uno e due sono i connettori all'innesto alimentazione più autoradio fusibile in donazione 10 ampere e allora per smontare l'autoradio dobbiamo andare a togliere 1 2 3 e 4 per 1 e 2 ok 1 così da togliere la parte frontale completamente e ci resterà la parte dietro che la parte dietro è quella dove c'è tutta la componentistica di controllo dell'audio del video delle poi periferiche ovviamente ci deve essere anche un amplificatore che sicuramente sarà la classe b ok ok non mi aspetto di vedere chissà quante componentistiche perché parliamo sempre di una coradio economicissimo questo vuol dire che la componentistica è stata minimizzata al massimo ecco però funzionare funziona oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia ragazzi non c'è nulla cioè una volta che autoradio avevano 4 5 volte queste componenti è normale che la tecnologia avanza attenzione è normale che si miniaturizzi tutto però guarda tu non c'è quasi nulla come componentistica della scheda interna all'autoradio economicissimo e abbiamo questo è il mosfet vediamo se riesco a farlo vedere questo è il mosfet con tutti questi piedini queste sono due viti che lo tengono sul dissipatore e questo si occuperà a diciamo far funzionare gli altoparlanti questo perciò è un amplificatore quattro canali che fa funzionare gli altoparlanti questo è il connettore rca 246 postazioni questa è tutta l'elettronica che pilota i segnali video e audio di uscita per l'amplificatore questa è la parte di connettore che si occupa allo smistamento del segnale in uscita agli altoparlanti e al all'alimentazione perché da qui si prende alimentazione e poi abbiamo anche un'altra scheda che questa qui questa che si occupa a pilotare tramite questo cavo flat e le periferiche cioè tutte queste ok tutte queste vengono pilotate da questa scheda il monitor invece questo viene controllato tramite questo cavo flat giallo eccolo qui che va direttamente su questa scheda poi c'è un altro cavetto flat che è questo qui eccolo qui che va sempre sul monitor e sarà quello sicuramente della retroilluminazione tramite il sensore appunto di luce dico come visto costa poco ma poi nella componentistica è normale che non possiamo avere chissà che componenti funziona fa il suo lavoro per quello che costa è accettabile l'ho già detto nella recensione che ho fatto qualche mese fa però per la curiosità di molti di voi l'ho smontato appunto per andare a scoprire nello specifico i suoi componenti e questo è ciò che abbiamo ragazzi in questa serie di video vi piacciono posso smontare vari prodotti tecnologici per andarli ad analizzare andare a capire appunto come funzionano cosa si nasconde dentro perciò da 1 a 10 per quanto riguarda gli assemblaggi sono fatti bene sono fatti puliti un flat due flat tre flat questa è tutta la componentistica di potenza che questa qui questa è tutta la componentistica di logica la scheda video scheda audio e questo poi il film mosfet come abbiamo detto di potenza da 1 a 10 possiamo dare un 8 abbondante perché per 40 euro ti danno è già un monitor che non si vede male attenzione si vede anche bene tutto sommato può anche starci per questo video ragazzi è tutto scrivimi sotto se ti è piaciuto se vuoi vedere altri video simili sto anche provando fare la registrazione con doppia videocamera ancora devo un po far pratica va bene una è questa e l'altra è questa qui sopra una sopra e una di fianco ragazzi per questo video è tutto di nuovo grazie per la visione ciao e al prossimo video